in base ai punti che mi avevi già detto ok, va bene allora partiamo un attimo la parte sulla posizione istituzionale va bene ho capito cosa intendo ci arriviamo secondo me è una cerchierata internost che penso che ci conosciamo anche, c'è confidenza quindi esce anche qualcosa di carino è troppo scuro? no, per me no ti vedo bene ok, allora ciao a tutti ragazzi oggi ho voluto coinvolgere uno di quelli che considero i precursori del nostro dell'ambito fitness social che poi si è ritirato in seguito però ha lasciato un'impronta per chi, diciamo, per le prime generazioni diciamo la prima metà degli anni 2010 Vincenzo Tortora che lascio presentare grazie Lorenzo per questa presentazione anche, come dire un po' meno drammatica il ritiro perché in effetti sì, è un po' successo quello, diciamo che io ho cominciato come una persona che è molto appassionata dell'ambito fitness e nutrizione e ho cominciato un po' a bazzicare diciamo così sui vari forum che anche tu ricordi appunto Body Web Fit Uncensored e vari altri in cui si parlava molto tecnicamente di argomenti di nutrizione bodybuilding sport diciamo ad ampio spettro e dove si imparava anche tantissimo quindi ho ripreso un po' quei concetti che lì avevo imparato e il modo anche in cui si faceva quella divulgazione perché mi piaceva il modo in cui veniva fatta cioè andare lì sul tecnico per poi tirarne fuori due o tre consigli chiave dopo aver capito tutto quello che c'era dietro e ho portato quindi ho iniziato anch'io a fare questo tipo di divulgazione spinti poi dal mondo social che in quel diciamo che in quegli anni 2011-12 andava sempre più su e dopodiché diciamo così tu ho detto ritirato diciamo defilato direi più che altro proprio dal mondo social in sé perché ho ritenuto poi opportuno anche costruire cose cose diciamo più che avessero una certa solidità e non subissero l'influenza di mode mercato novità perché come sai su specie sui social vanno forte va forte chi riesce sempre a starci dietro a stare dietro a stare sul pezzo cavalcando le mode esatto non so tu poi come la vedi e come è anche la tua esperienza in questo a me sembra che sia ne ho anche pare purtroppo e devo adattarmi un po' ma faccio difficoltà e fondamentalmente poi sono arrivato a creare quella che è la realtà outside che tu conosci che si pone proprio come una sorta di sintetizzatore di concetti per le persone che non hanno troppo tempo modo e voglia perché a volte si aveva anche una comprensione di certi tecnicismi per capire cosa fare su se stessi allora ho detto facciamo che i tecnicismi facciamo capire che li abbiamo fatti perché li abbiamo effettivamente fatti e studiati però poi alla fine cerchiamo di vedere qualcosa che sia semplificato non banale ma comunque semplificato così che la persona possa avere diciamo un boost un'accelerazione su quello che è una cultura sua personale sul fitness se la nutrizione ok ma quindi quando tu hai iniziato cioè come come si è evoluta la tua visione della nutrizione al di là del tecnicismo ma anche nel lato pratico cioè cosa consideri diciamo superato supertuo o comunque cosa hai cambiato di grosso tra la tua visione iniziale dei primi anni del 2010 a oggi diciamo ok io penso poi a me piacerebbe anche sentire la tua su questo perché penso che tu hai messo le mani nelle cose tecniche molto le metti tantissimo le mani nelle cose tecniche e penso anche lì c'è le variazioni del mondo si vedono in tutti i settori a livello della nutrizione io penso che ci sia stato all'inizio un grande attaccamento appunto al tecnicismo siamo andati un po' tutti è una cosa che ogni diciamo a livello di individuo un po' tutti facciamo penso ci avviciniamo a un ambito andiamo molto molto in profondità e magari diventiamo a volte anche miopi di quello che c'è attorno prima poi di fare un processo di risalita da quell'ambito prima secondo me si faceva un po' di più cioè proprio un movimento quasi culturale di andare in profondità sul tecnicismo e poi c'è anche questa si creavano anche le community attorno ai tecnicismi no? attorno al sai i consigli anche un po' da bro da bro nerd esatto e poi si è andato a cercare di semplificare che per me è una cosa positiva cioè dire ok belli tecnicismi bello tutto però quando abbraccio il mondo reale in cui metti ad esempio mi viene in testa non so perché mi viene in testa questo esempio degli shaker gli shakeroni post allenamento c'era un periodo in cui c'era chi si portava i tre shaker in palestra e magari faceva un allenamento di 40 minuti ok cosa che potrebbe essere utile in contesti molto elevati ma non al ragazzino che inizia adesso ad adenarsi ok e quindi la semplificazione diciamo che doveva esserci quindi prendi uno shaker metti tutto insieme e se sei uno che vuole mantenere la forma fisica va bene basta quello non serve tutto quel tecnicismo che c'è dietro poi però secondo me ci è scappata un po' troppo la mano dal tecnico al semplificato siamo arrivati al semplicistico al dire vabbè ma è tutto semplice vabbè ma è tutto uguale è tutto così basta bastano poche cose e diciamo mi ci metto anch'io tra quelli che hanno sbagliato anche a riportare i messaggi in cui come dire abbiamo per così dire come movimento diciamo così abbiamo detto ma sì ma tanto è uguale però a un pubblico diciamo così non tecnico quel ma tanto è uguale arriva diversamente rispetto se io e te parliamo e ti dico guarda Lorenzo prenditi uno shaker per recuperare l'allenamento tu capisci che capisci perché capisci che magari in mezz'ora dell'allenamento non ti cambia poi tanto a un pubblico più più ampio più vasto un po' più meno con meno appunto esperienza e cultura tecnica la cosa secondo me ha fatto molto la differenza e quindi diciamo che un po' tutti hanno pensato di poter dire tutto e quello che tu mi hai detto scusa se spoilerò nel backstage prima pre-registrazione mi hai detto ci sono persone che magari stanno hanno accelerato grazie a un processo che io ho avviato tu hai avviato che tu Lorenzo hai avviato e magari loro non hanno messo le mani in pasta alle cose tecniche in cui tu hai messo le mani quindi secondo me vabbè le cose poi si vedranno anche sulla lunga cioè molte persone stanno parlando senza magari avere delle basi forti quindi prima o poi ci pagheranno lo scotto però secondo me è successo perché abbiamo un po' tutti abbiamo semplificato e un po' tutti hanno creduto che vabbè è tutto semplice posso dire anch'io questa cosa su questo non so tu come la vedi perché mi interesserebbe anche la tua visione cioè se secondo te abbiamo esagerato e abbiamo dato purtroppo in mano alle persone poi ci sono persone alcune in buona fede hanno fatto degli errori altre in buona fede hanno fatto delle cose buone altri invece in buona fede hanno fatto delle castronerie altri ancora anche in mala fede hanno preso un trend e se ne sono un po' approfittati su questo la tua penso che sarebbe anche utile per completare la mia la mia visione o farmi vedere un punto di vista che magari io non considero credo che i social siano un'arma a doppio taglio nel senso che da una parte soprattutto Instagram è l'estremo del socialismo in questo senso qua perché con Instagram ci si è si è riusciti a sintetizzare proprio il succo all'osso cioè mentre Facebook dando la possibilità di stendere dei post molto lunghi dava al lettore diciamo lo spazio per tanti fronzoli con Instagram la riduzione del testo ha fatto sì e anche tra l'altro l'affidamento sull'immagine ha fatto sì che il messaggio fosse ancora più diretto e io perlomeno mi sono mi sono reso conto che si poteva dire la stessa cosa in cinque volte meno spazio quindi mi ha insegnato tanto a livello di comunicazione a estrapolare il concetto fondamentale cosa che mi sto portando dietro tra l'altro sul libro che sto scrivendo perché proprio questa modalità secondo me è anche più efficace per certi versi dall'altra però ci fa illudere che è tutto quello che serve per capire un argomento e quindi per sentirci competenti riguardo a una questione lo stesso problema esisteva prima con Facebook solo che è stato ulteriormente estremizzato con Instagram quindi da una parte c'è la forte tentazione di formarsi sui social perché molti suggerimenti pratici effettivamente sono validi e derivano dai ragionamenti che sono basati sulla scienza poi chiaramente dipende da chi li elabora perché ci sono persone più o meno competenti ma poi con il fenomeno del riciclaggio delle informazioni visto che c'è la tendenza poi a riprendere più o meno pari pari quello che dice un'autorità poi la riprendo io poi la riprende qualcun altro alla fine è un meccanismo che per trasmettere qualcosa di pratico e valido entro certi limiti e funzioni è chiaro che però qua viene sacrificata la competenza vera dei professionisti perché se poi tutti riciclano le informazioni valide da una parte il professionista è penalizzato perché magari erano delle conoscenze che prima erano appunto solo di poche persone tra l'altra però si tende a credere a illudersi che quello sia tutto ciò che bisogna per gestire una situazione quindi diciamo che non la vedo negativamente per forza però diciamo che vanno riconosciuti contro di questa strategia che da una parte offre anche una formazione diciamo allargando più al web che a Instagram o Facebook ma sono sempre stato dell'idea che se uno sa dove cercare può veramente farsi una formazione tecnicissima che è anche superiore a molti corsi molto costosi l'unica differenza è che il corso molto costoso ti fa riferire tempo perché tu vai là ti fai non so indifferentemente ma il rapporto tra tempo impiegato e apprendimento è chiaramente molto superiore per questo che costa è ovvio che se io avessi tutto il tempo del mondo potrei capire nel tempo chi sono gli autori fondamentali gli autori fidi quindi è tutta una questione di tempo alla fine il costo effettivo però internet comunque ti dà la possibilità nel tempo come faccio io di capire quali sono gli autori di riferimento quali sono i tipi di documenti che vanno diretti al punto su certe applicazioni pratiche se posso inserirmi qui infatti ne avevo parlato penso che l'hai visto anche non visto sentito c'è il podcast con Manuel che sto portando avanti LifeX di proprio come adesso diciamo il bisogno principale sia proprio quello di allora c'è rifaccio ritorno diciamo un po' nell'evoluzione storica che poi si ricollega anche la domanda che mi hai fatto come ho visto io questa cosa c'è stato un momento in cui abbiamo prodotto informazione parliamo dell'Italia perché poi magari negli Stati Uniti tutto è arrivato magari 10-12 anni prima di quello che abbiamo fatto noi anche banalmente l'uso di Facebook per esempio noi abbiamo accelerato molto dal 2009 10 se non erro ma lì era già 3-4 anni prima parliamo dell'Italia secondo me c'è stato un periodo in cui abbiamo prodotto vomitato proprio informazioni all'estremo il periodo in cui collaboravamo esatto sì era lì è iniziato forse qualche anno prima 2010 il boom quando c'è stato secondo me il passaggio dai forum a Facebook e i gruppi lì c'è stato un vomitare informazioni dopodiché mi sembra che ci sia stato un nuovo cambio di paradigma alla ricerca della sintesi di quelle informazioni e successivamente cioè era attuale secondo me non tanto la sintesi ma dammi gli strumenti i metodi per cercarmi le informazioni che è quello un po' che hai detto anche tu cioè se io so come cercare conosco quali sono i filtri mentali ho una accelerazione della curva di apprendimento spaventosa esattamente come può farti un corso come detto tu è giusto che si paghi secondo me cioè è giustissimo quello che hai detto perché perché se tu intendo tu Lorenzo ci hai messo magari dieci anni per capire delle cose ora magari c'è il corso o magari c'è il corso di Lorenzo che effettivamente secondo me sarebbe come dire è una cosa che potrebbe essere anche una naturale conseguenza del tuo lavoro in cui insegni gli strumenti per cercare le informazioni ok non tanto l'informazione in sé perché l'informazione la trovi il punto è cercare le informazioni un po' quando c'erano le guide a come usare PubMed per la ricerca scientifica o come usare questo o quell'altro motore di ricerca di documenti scientifici cioè ti dava ti dava il metodo mentale mappa mentale diciamo così per trovare informazioni al di là di quello che poi appunto non era l'informazione in sé tirava proprio lo strumento per che è una cosa che perlomeno io abbraccio come hai detto tu c'è un i cambi di paradigma penso che avvengano quando la cultura su un certo settore si è riempito tutto quello che poteva riempire esatto quindi devi andare a livello successivo a livello successivo secondo me in questo momento è proprio quella di fornire lo strumento per cercare il tipico proverbio non dare a un uomo affamato un pesce dagli insegnali a pescare e quindi è una cosa che sto anche perseguendo io nel mio lavoro quello che facciamo con outside è un po' questo piuttosto che dirti questo 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 e quello ti preferisco dirti cerca informazioni su questo argomento che ti può servire a migliorare te come approccio alla nutrizione e poi al benessere in generale e sono arrivato a maturare il pensiero che quello che in realtà do alle persone io dico sempre questo alle persone tu puoi scegliere due strade o ti metti sui libri seri o sui documenti seri studi il fatto tuo stai tre quattro cinque anni esattamente come ha fatto qualsiasi professionista e poi concludi le fai esperienza anche con altre persone e poi concludi cosa è meglio per te oppure scegli di affidarti a un professionista una realtà un percorso eccetera e tutto quel percorso ti viene sintetizzato in in un mese in tre mesi in quel che è quel percorso capito sono arrivato a questa idea che magari dico una cosa brutta sicuramente anche colleghi e vari mi cederanno per questo però vabbè è anche forse un punto forte ma nel senso un po' forte da dire però lo dico che secondo me le persone attualmente quello che comprano non è la professionalità ma è la velocità o meglio l'accelerazione esatto ed è una cosa lo so è depersonalizzante se ci pensi cioè nel senso che la persona non viene da te perché sei tu o perché hai una certa caratteristica ma perché sa che tu sei quello che più di tutti può fargli risparmiare risorse non parlo solo di risorse economiche perché uno può costare duemila euro per un'ora di coaching però magari con quell'ora di coaching quella persona viene trasformata ammesso sia possibile e tutto ciò che viene dopo lo fa in maniera più fluida pulita più appunto al risparmio di tempo di 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 eccetera ritorno sull'esempio del corso che ora abbiamo preso se tu mi avevi anche chiesto se volessi parlare di cosa è discutibile di quello della nutrizione diciamo così avevamo chiamata istituzionale no? Secondo me la cosa bella ci siamo ripersi la cosa bella del web e del social cioè la cosa bella che secondo me era quella che aveva un po' rotto le scatole o meglio rotto i dogmi che c'erano in quella che possiamo dire nutrizione istituzionale troppo accademica un po' stantia sai massimo due uova a settimana eccetera eccetera no? Io ho vissuto questa cosa anch'io la trovo frustrante il fatto che adesso sia uscito di nuovo l'argomento cioè c'è di nuovo bisogno di parlarne e la cosa io io dico no basta non ce la posso fare capito? E se non riuscite queste cose i corpi chetonici che fanno male sono riuscite le uova a settimana che fanno male e sono riuscite e di nuovo le diatribe cioè ci sono sempre le stesse diatribe che c'erano otto dieci anni fa che ci sembrava ora posso diciamo mettiamoci quasi spalla a spalla che poi noi ma in realtà noi ma insieme a un movimento che si era creato avevamo quasi risolto avevamo quasi detto alle persone guardate non è così e invece ora si sono ripresentate perché secondo me c'è sempre questo dai e vieni tira e molla e quindi periodo esatto è stato complicato come dire dire una cosa e poi rimanere un po' su quella cosa ed è ritornata quella che è appunto quella che abbiamo detto nutrizione istituzionale di cui se ti dovessi dire la cosa più brutta è proprio quella di di fornire dei diktat questo sì questo no questo sì questo no c'è tutto molto tagliato con con l'accetta ed è una cosa che ovviamente limita assoluto idone in queste cose esattamente sono cose che da un lato io infatti dico sempre quando le persone poi magari mi piacerebbe sentire la tua come anche come tua esperienza di divulgazione quando le persone chiedono io cerco sempre di capire da che contesto vengono e in che contesto chiedono e chiedo anche a loro in che ottica mi stanno chiedendo quella cosa chiedo sempre faccio sempre la domanda quando qualcuno mi chiede posso mangiare posso fare dico tu me lo stai chiedendo perché vuoi l'informazione per te in generale perché vuoi l'informazione in generale o perché vuoi l'informazione per te perché molte volte sembra che si contrappone a volte uno dice ma come questa cosa in generale dovrà essere così e poi mi stai dicendo di fare quasi l'opposto sì perché lo sai quando vai cioè l'esperienza ti dice che in certe situazioni possono valere delle cose che sono magari totalmente che non ti avresti aspettato quindi la cosa importante secondo me è far capire alla gente comune di strada proprio intendo che quando una istituzione lancia un messaggio lo fa per la massa per la popolazione in generale per la maggior parte quindi se la istituzione dice abbassate il consumo di uova mangiate il massimo due uova a settimana è perché nella collettività magari quelle più uova a settimana in realtà sono associate a tanto altro sono associate al fatto che quelle uova magari non sono uova che mangio così sode o in qualche modo sano ma sono uova inserite in alimenti cioè derivanti da alimenti fatti con le uova con zuccheri con farine con carboidrati eccetera eccetera e quindi secondo me quella regola può dare una come dire si porta con sé una serie di conseguenze che fa sì che probabilmente la persona media può andare a mangiare meglio e quindi bisogna secondo me fare fortemente questa distinzione tra una nutrizione diciamo così di massa e una nutrizione poi personalizzata non non so com'è la tua su questo in termini proprio di tua esperienza anche di divulgazione se ti trovi con diciamo considera che è un discorso proprio uguale a quello che faccio spesso cioè le raccomandazioni per la salute pubblica trasmettono un messaggio affinché questo sia utile per la maggior parte delle persone quindi sparano nella massa cercando di salvare la percentuale più alta di queste persone per capirci cioè più io riesco a migliorare il comportamento alimentare di massa meglio è stato raggiunto l'obiettivo di questa istituzione altra questione invece è il singolo e in psicologia è noto che il singolo e la massa sono entità diverse ecco questa cosa andrebbe trasportata anche a livello di consigli nutrizionali perché quello che vale per la massa può non valere per il singolo paradossalmente nonostante il singolo sia incluso in questa massa perché tutto dipende dal contesto quindi su 10.000 persone se io dico consumate due uova a settimana so che magari sui grandi numeri ho fatto una cosa buona ma dicendo al singolo mangia di due uova al giorno beh sì a settimana perché attenzione era un lampo mangia di due uova al giorno vabbè dai basta va avanti a settimana in realtà in realtà quel consiglio non è più valido non è che lo sto aiutando anzi probabilmente è un consiglio o neutro o comunque che rema contro perché appunto sapendo che il tuoro ha una serie di nutrienti quindi va sempre la cosa triste secondo me è che questa distinzione fondamentale ma fondamentale che dovrebbe essere implicita non viene compresa neanche da tanti che sono in nutrizione cioè quelli che sono molti nutrizionisti o di quello che è credono veramente che i suggerimenti per la salute pubblica le raccomandazioni siano un sinonimo di quello che il singolo dovrebbe fare forse perché mi rendo conto tante volte di proprio di discussioni anche tramite i social su Facebook sono dei gruppi molto tecnici che racchiedono anche i professionisti quindi sono anni che assisto a discussione o comunque mi confronto anch'io e tanti nutrizionisti veramente prendono queste linee guida credendo che queste siano un assoluto per tutti e che quindi fare diversamente da questo sia sbagliato a livello diciamo quasi come un dogma mentre quello che vi venirebbe chiaramente richiede più sforzo cognitivo è quello di contestualizzare ognuno ha una sua storia un suo contesto e quello che va bene per uno non va bene per l'altro eccetera questa è già una retorica che conosciamo bene in realtà però è una cosa che molto spesso bisogna sforzarsi di realizzare perché se io ho una linea guida mi sento più al sicuro a ripeterla pari pari a tutti perché tanto so che più o meno non sto facendo male a nessuno però poi si rischia di sollevare o consolidare dei falsi miti che in realtà non hanno senso di essere soprattutto da parte di autorità questo discorso se posso poi dal mio se posso dirti secondo me perché questo avviene tu hai detto bene nella persona diciamo così media comune che magari non ha studiato certi argomenti te lo puoi aspettare ho sentito la tv esatto quanto è difficile ad esempio convincere i propri cari gli amici i genitori è una cosa che io ho smesso dice vabbè segui la tv non ce la faccio è difficile ma poi dal professionista uno dice dovrebbe avere degli strumenti già mentali per secondo me quello che è successo la nutrizione almeno quello che è la mia esperienza anche universitaria viene insegnata proprio per poi andare più nel lavoro diciamo così in una clinica o in ospedale o a fare menù per le menze o per le comunità e di là è ovvio che io debba stabilire un menù e mi va bene quella cosa è anche merceologicamente correttissimo va benissimo cioè il menù che viene creato va bene il punto è che viene fatto pochissimo insegnamento di non c'è ad esempio un corso di nutrizione personalizzata come personalizzare in base a quello che succede quando segui una persona non c'è questo tipo di di corso almeno quando ho fatto io il percorso accademico e quindi secondo me andare sul campo con questa visione quindi con una formazione che ti viene data per essere un diciamo così generalista che non è sbagliato anzi io apprezzo molto le formazioni generaliste però andare con un modo generalista cercando di fare lo specialista è un guazzabuglio si genera un casino si genera quello che stiamo dicendo finora adesso so che mi ammazzeranno qualcuno verrà le istituzioni ci butteranno giù il video lo so perché io credo che questa capacità di distinguere derivi da una mentalità scientifica fondamentalmente cioè è la base una persona che ha dimestichezza con il ragionamento scientifico la forma mente scientifica arriva già c'è da per scontato queste cose però da quello che mi sembra tanti che vengono da un percorso universitario non sviluppano queste capacità perché magari prendono il percorso come studio queste nozioni meglio possibile per passare l'esame e poi il titolo sono apporto e ne faccio una professione non è il voler volersi addentrare nella scienza il volersi proprio appassionare al discorso scientifico è là che apprendi cose in più perché se la prendi come un queste sono le regole le applico perché so che sono al sicuro perché mi hanno detto che le linee guida dicono questo che è estremamente più comodo e magari è funzionale in alcuni contesti poi non non hai la possibilità di sviluppare un tuo ragionamento cioè un ragionamento proprio cioè non non ti poni neanche il problema poi questo è un estremo chiaramente ci sono le sue maure però è una tendenza che è noto da molto tempo ed è anche il motivo per cui in nutrizione si consolidano i falsi miti perché laddove la linea guida dice una cosa vai nella ricerca a vedere e questa cosa non è provata o è discussa di battuto addirittura smentita a volte quindi e dico ci sono casi innumerevoli di questo visto che lo faccio da anni sono tanti falsi miti che non so sei anni fa anche anche meno il nutrizionista su youtube dice mangiate sei pasti frequenti perché così alzate il metabolismo e uno va in letteratura e già dagli anni 90 sta roba era smentita ma e allora com'è possibile che ci siano tutti questi paradossi perché uno non si pone il problema linee guida sono quelle più comodose sono stati confusi i contesti e secondo me quando si confonde il contesto è proprio la cosa peggiore ancora prima di tu hai detto prima il pensiero scientifico secondo me ancora prima proprio il pensiero logico cioè il pensiero di base che a sua volta si basa sì il pensiero scientifico poi si basa sul pensiero logico quindi insomma è alla base però vabbè questo per quanto riguarda i vecchi guarda che si potrebbe creare anche un video separato un audio separato su tutto quello che pensiamo in merito proprio anche che è l'argomento filosofia delle scienze praticamente io sono ora forte sostenitore del fatto che filosofia e delle scienze per diciamo per per conseguenza debba diventare materia da studiare da fare chiunque è deve fare questa materia perché ti dà la capacità di avere proprio lo schema mentale di ragionare sulle cose di fermarti sempre e dire ok quali sono le cose che so quali sono le cose che servono in questo contesto quali sono le cose che non so e quindi devo sviluppare per avere a che fare con questa situazione sono cose banali a dirlo così mi viene quasi che sembra banale dirlo eppure sono cose che non vengono fatte perché è ovvio che andiamo poi anche a cercare delle scorciatoie mentali quando abbiamo a che fare con dei problemi il punto che le scorciatoie mentali vanno bene quando dobbiamo prendere decisioni veloci ma quando c'è da ragionare appunto su un ragazzo che deve perdere peso deve aumentare raggiungere una certa performance bisogna fermarsi e ragionare seriamente la tua visione dall'inizio questo era poi il fulcro dall'inizio io ricordo che all'inizio tu sostenevi molto il concetto calorico ma già eri abbastanza affezionato o comunque portato verso le direzioni della vita ketogenica e della visione intermittente dall'inizio inizio a oggi come si è evoluta la tua la tua visione della nutrizione anche forse in particolare così cerchiamo di stringere il cerchio proprio sulla composizione corporea ok allora direi che si è evoluta nel senso in profondità che significa che ho dato e sto dando sempre più risalto o meglio penso di essere arrivato a un punto in cui sto lì e lavoro su questo cioè risalto a come una persona sta cioè e quindi la composizione corporea la sto vedendo sempre più una conseguenza di come una persona sta tutto ciò mi ha portato anche a capire e qui appunto arriva la pericolosità mi sono reso conto di avere io stesso a volte troppo semplificato dei concetti perché per esempio forse vabbè ti sarei accorto sai che sono passato più a un concetto di dieta che era prima molto tecnico no devi far così devi prendere esattamente queste grammature o comunque microgrammi di che ci può stare appunto ritorniamo sul contesto in certi contesti ci può stare livelli molto avanzati ci può stare o in contesti in cui uno ha fatto allenamento e deve massimizzare una certa cosa ci può stare ma quando si poi quando poi si considera un po' un benessere globale che deve darti come conseguenza una forma fisica di un certo tipo una composizione corporea o perché no anche una performance di un certo tipo cerco di far capire che ci sono altre variabili che contano in questa equazione però il rischio è quello di far passare il messaggio che non conti niente cioè se conta tutto non conta niente ok se tutto è importante sembra che nulla sia importante cosa voglio dire con questo che ad esempio andrò a dire a una persona guarda che si mangia un tot ma puoi stare in un range di porzione di grammatura anche abbastanza ampio non è non è per andare a banalizzare non è quel tipo di semplificazione ma è perché dietro c'è il fatto che se poi parlo di persona diciamo che media ok un personale vuole stare in forma se quella persona con un'indicazione di questo tipo un range mangia tra 100 e 150 di qualcosa è una differenza di oltre la metà di quasi della metà però magari quella indicazione dà quella tranquillità quella serenità tale che quell'indicazione viene anche assorbita più facilmente la persona da più facilmente e quindi riesce a mantenere per più a lungo quella indicazione e poi lo stesso avere una serenità d'animo diciamo così e non stare lì a ripunginare continuamente come alcuni magari fanno purtroppo certe volte dà anche una conseguenza in termini diciamo ora sembra che voglio fare il santone poi spiego in termini anche fisici nel senso che la correlazione poi tra quello che come viviamo certe cose per intenderci è quello che poi succede anche a livello di biochimica di fisiologia qualcosina c'è stato detto che 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 ha impatto ok cioè il fatto che uno sia in un mood continuamente negativo ha impatto su sul corpo i casi estremi sono i casi che so uno che è depresso e lo è continuamente e lo è appunto per definizione con un mood negativo ha delle conseguenze anche corporee ok quello è il caso estremo andando sul caso meno estremo però possiamo portarci a casa il consiglio che se uno fa le cose con una certa serenità sta anche meglio come suo benessere interno e quindi come come conseguenza di composizione corporea se ha un obiettivo di composizione corporea quindi questo per dire che diciamo devo fare mea colpa sulla semplificazione che il messaggio da passare non era puoi fare un po' un po' va bene così era guarda che poiché c'è un'interazione di diversi fattori questi fattori alcuni spingono altri frenano quindi se tu questo range se parliamo appunto di alimentazione prendi questo range di grammi di un alimento piuttosto che concentrarti sul numero fisso non stai facendo un errore o quantomeno nel lungo termine l'errore va a annullarsi e quindi quello che ottieni è quello che volevi ottenere questa è la mia spero di averti dato la traccia della mia visione attuale sull'argomento comunque tu sei sempre stato affezionato agli approcci ketogenici e di giuno intermittente sei ancora orientato su quella strada diciamo che secondo me sono approcci che ci danno molto in termini diciamo didattici anche se poi sono stati anche capiti male lo sai bene stati malinterpretati eccetera perché ci sbloccano da certe cose il dirigente intermittente ci sblocca dal fatto che dobbiamo fare forza mangiare sempre continuamente al di là del fatto di come farlo in termini formali con tutti i vari approcci formali è proprio secondo me è l'altro lato che è importante l'approccio permissivo a certe cose cioè è quindi che si può prestare bene neanche a uno stile di vita in cui uno dice io non ho fame a colazione comunque sono di fretta a pranzo quindi non mi viene la fisima mentale che devo per forza mangiare perché comunque sto ho capito che effettivamente c'è anche un protocollo dietro questa roba ok e va magari ottimizzato la mia nutrizione attorno al mio stile di vita l'altra la parte delle ketogeniche diciamo che sono mi piace quello che ci hanno dato fatto capire e anche lì il fatto anche permissivo anche loro il fatto che se stai senza carboidrati due giorni non muori ok che è una cosa che anche questa è una cosa che può sembrare banale per te che studi sull'argomento sull'argomento compreso questo è banale la cosa il corpo produce le sostanze che lo fanno andare avanti negli ultimi tempi è ritornato di nuovo il concetto che se stiamo a di primo due giorni il corpo si intossica si nacidisce eccetera eccetera capito e quindi anche lì è successo il guazzabuglio che avevo detto prima il fatto perché sono affezionato perché comunque secondo me può essere anche un modo a volte semplice e non sbagliato di approcciarsi a diciamo un dimagrimento inizialmente perché ti toglie di mezzo una categoria di alimenti ti sblocca un po' sulle altre categorie ti ricordi come come nacque ero un po' non tanto la pedogenica ma la metabolica di Pasquale per quanto magari non così scientific con quella scientificità però comunque fece capire al mondo che i grassi saturi i grassi in sé si potevano mangiare pur dimagrendo ti ricordi lui sbloccò questa cosa e io questo mi porto come insegnamento diciamo così quello delle diete a basso apporto di carboidrati il fatto che riducendo i carboidrati puoi sbloccarsi un po' di più sui grassi a volte può essere educativa questa cosa paradossalmente quindi dici che hanno portato diciamo andando contro a quelli che prima definivamo le regole o i documenti della nutrizione classica hanno fatto capire che si poteva andare oltre che si potevano andare contro diciamo queste regole inviolabili apparentemente sì che poi non lo so ovviamente la massa che riceve le informazioni polarizza sempre le informazioni non si può io ho capito che non si può scappare a questa cosa quindi bisogna è la sua natura esatto quindi uno deve avere anche la responsabilità che quando lancia un messaggio per quanto sia costruito e comincia a mettere tutti i vari paletti c'è sempre una polarizzazione le persone leggono e sentono ciò che ciò che si aspettavano di leggere e sentire quando uscirono queste diete appunto bassi carboidrati in realtà ci hanno fatto proprio capire che ci può essere una personalizzazione perché io quello che ci vedo adesso nel libro di di Pasquale iniziale è proprio quello di tu funzioni meglio con più carboidrati utilizza più carboidrati tu funzioni meglio con più grassi utilizza più grassi ci vedo quel messaggio adesso prima magari non ce lo vedevano anch'io perché polarizzavo tanto anch'io adesso invece con una visione un po' più generalizzata ci vedo quel messaggio e spero che le persone comincino a polarizzare di meno e a avere una comprensione più globale un po' come quello che insegni anche tu il fatto che non è buono né quello non è buono né anche quello non è cattivo né quello né quello ma è tutto da contestualizzare ed è tutto dipendente magari da variabili che sono più più forti rispetto a la scelta di questo o quel protocollo per la persona in questione poco tempo fa credo fosse l'altra settimana o due ho visto il tuo che promuovevi che outside un posto di outside che promuoveva il discorso delle di poter rimanere in chetosi anche con con introducendo i carboidrati quindi non è per forza una low carb questa cosa mi ha intrigato ma poi ci sono arrivato forse ok siamo passati al tempo insomma che collaboravamo anche io studiavo molto quella però vuoi parlarcene o vuoi tenerti insieme certo no no ne parlo perché io sono per la condivisione lo so che mi do la zappa sui piedi in termini economici ma va bene così sono per la condivisione allora fondamentalmente infatti quella quella o quei post quegli articoli lì o anche c'era un videocorso sono stati molto criticati da tutte le da tutti i grandi fan delle chetogeniche in maniera molto spinta molto spinta però secondo me chi ha preso la chetogenica da questo punto di vista e ha criticato fortemente quel tipo di comunicazione là secondo me è colui che non ha capito bene come funziona il meccanismo perché il meccanismo cioè la dieta chetogenica non nasce come dieta sì a bassissimi carboidrati però ha uno scopo finale che è oltre l'abbassamento dei carboidrati che è portare l'organismo in chetosi quindi il senso di quella cosa è fare quello che aveva sempre fatto le ciclizzazioni dei carboidrati perché effettivamente se ci pensi i vari di Pasquale Atkins i vari che hanno portato la chetogenica anche nel fitness nel bodybuilding eccetera se tu prendi uno spettro di periodo abbastanza lungo non hanno mai detto che non si introducono carboidrati dicono no noi introduciamo semplicemente introduciamo in momenti mirati andiamo a sfruttare dei benefici della chetosi della low carb in certi momenti e in altri momenti però ci risulta necessario andare a diciamo ricaricare rimettere insomma i carboidrati nel nel sistema e quindi fondamentalmente il concetto è quello sfruttare la chetosi in certi momenti poi una volta che l'organismo si abitua che c'è quella sorta di non so come possiamo definire come esatto che quindi una volta che ci sei entrato è più facile rientrarci quindi ripeti il ciclo tanto tempo e a volte cioè chi sta tanto in chetosi poi esce poi rientra anche facilmente questa è una cosa però capisci quanto è difficile la comprensione perché c'è un livello oltre la 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 difficoltà di uscire dallo schema c'è anche un livello di temporalità cioè io non ti ho detto succede dall'oggi al domani ti dico che succederà appunto c'è la chetodadaptation tu ciclo dopo ciclo diventi sempre più bravo a entrare in chetosi cioè cosa che avviene sul lungo termine è un concetto molto molto è è difficile è molto fortunatamente io credo che appunto di Pasquale ma forse ancora più McDonald abbiano permesso di capire questo perché di Pasquale non si basava tanto sulla sulla chetosi in sé ma McDonald proprio strutturò il libro per cercare di capire come recuperare il prima possibile la chetosi quindi credo che abbia fatto forse più degli altri vabbè sono di parte però però sì effettivamente ha fatto tanto quindi se non fosse stato per il fitness probabilmente non conosceremmo questi approcci più o meno te lo dico perché comunque nel libro ho steso parecchi capitoli anche su questo è comunque un mondo quello della dieta chetogenica che mi ha affascinato anche a me e quindi insomma mi è rimasto dentro in qualche modo così come anche il digiuno intermittente in realtà sono degli approcci che hanno diciamo fatto il loro tempo a livello di moda però sono rimasti perlomeno in chi bazzica nella nutrizione poi oggi si sta parlando di tutt'altri approcci che hanno comunque i loro bei risultati però questo non il discorso è non 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 escludersi perché non è che uno per seguire una low carb deve opporsi alla high carb e viceversa no anzi secondo me l'approccio più evoluto è saper gestire tutti i tipi di alimentazione e quindi passarci quindi diciamo adattarsi a ogni tipo di approccio perché questo porta dietro un bagaglio di conoscenze che poi sfrutti all'occasione ecco quindi un periodo magari ti va di fare la chetogenica un periodo stai high carb anzi secondo me è molto bene sia per la flessibilità mentale quindi non fossilizzarsi su dei metodi ma anche per una flessibilità diciamo di tipo metabolico perché uno se si adatta ad essere a seguire una dieta molto glucidica perde magari la flessibilità ai grassi e viceversa quindi secondo me sono sempre stato molto affascinato da questo da quello di riuscire a a rimanere flessibili proprio a livello di testa nell'alimentazione e potersi muovere un po' dove si vuole piuttosto che fissi ok ci siamo ci siamo dilungati quanto basta credo che sì siamo un'ora passata però poi visto che mi piace fare questi discorsi se vogliamo fare altre occasioni in cui ce l'organizziamo meglio perché questa volta non avevamo regole e quindi siamo andati un po' ok va bene allora grazie Vincenzo per questa piacere grazie a te Lorenzo davvero un gran piacere come sempre se vuoi dare dei riferimenti su su di te semplicemente va bene il sito outside.com o u k s i d e punto com per vedere un approccio magari un po' snello al diciamo fitness benessere per l'appassionato ma non avanzato ecco ok va bene grazie di tutto e ci riaggiorneremo sicuramente presto va benissimo grazie Lorenzo a Vincenzo grazie a tutti